Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo I Templari, storia di monaci in armi, 1120-1312, scritto da Jacopo Mordenti che noi abbiamo il grandissimo piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale io lascio subito la parola per non rubare altro tempo e sentire cosa ci racconta dei mitici cavalieri templari. Prego Jacopo, a te. Grazie Maurizio, grazie per questo invito a parlare di questo piccolo saggio con gli amici d'Italia Medievale. È un saggio che cerca di tenere insieme due cose, forse anche qualcuna in più, ma intanto due cose. Un linguaggio, un formato accessibili anche per chi non è fra i cosiddetti addetti ai lavori. E dall'altro lato però un contenuto curato sotto il profilo della scientificità storica, quindi secondo i paletti della scienza storica, che sono paletti forse particolarmente importanti quando si parla di storia templare, perché la storia templare credo si è prestata e si presta tutt'ora, magari continuerà a prestarsi anche a una certa fascinazione che esula appunto dal seminato del pari storia. bene o male quando si parla di templari un po' tutti, soprattutto, ripeto, magari chi è poco avvezzo al fare storia, rimane affascinato dal mistero dei templari, dal segreto dei templari, dall'aspetto, se vogliamo, anche più legato ai processi e quindi alla drammaticità dei processi dell'intera vicenda templare. Quasi che l'intera vicenda templare fosse riconducibile poi sostanzialmente a questi aspetti. Ecco, in realtà il saggio che ho pubblicato con Carocci ambisce a ricostruire, in maniera, ripeto, accessibile ma esaustiva, la vicenda dei templari dalla loro origine fino alla loro fine, senza lasciare per strada alcuni passaggi che personalmente reputo importanti, citando ovviamente anche questi aspetti, diciamo così, folcloristici dell'immaginario della narrazione intorno ai templari, ma appunto precisando che si tratta di elementi altri rispetto al divenire storico documentato, no, dei cavalieri templari e dell'ordine templare in senso più lato. Dicevo, parto dalle origini dell'ordine templare che vado a collocare all'indomani per così dire della prima cosiddetta crociata e poi la vicenda si dipana lungo quasi due secoli e va a concludersi sostanzialmente nel 1312 con la soppressione dell'ordine e due anni più tardi con il rogo dell'ultimo maestro templare a Parigi. Una storia ovviamente non solo relativamente lunga, ma anche relativamente complessa, che merita di essere affrontata sul piano degli eventi, ma anche sul piano delle prospettive fra il cosiddetto occidente e la cosiddetta terra santa. e che si dimostra dal mio punto di vista interessante, non nonostante, ma proprio perché sta in piedi e cammina sulle sue gambe anche nel momento in cui, come dicevo, si esplicita che la storia sul piano dei documenti è una e poi la fascinazione è appunto una cosa a latere. e sui templari è stato scritto, detto, narrato un po' di tutto, no? sia dal punto di vista storico e scientifico che dal punto di vista folcloristico, quindi è un magma di difficile sistemazione. Ecco, tu che obiettivo ti sei prefissato? quello di un quadro storico che sia inattaccabile e quindi corredato di fonti, corredato di occasioni per approfondire l'argomento, oppure hai cercato di sintetizzare molto questa avventura e questa vicenda? Allora, francamente mi riterrei un ingenuo se sostenessi di aver, diciamo, compilato un saggio inattaccabile. Io mi auguro al contrario che sia attaccabile perché questo vorrebbe dire portare avanti in maniera costruttiva la storiografia sui templari. Quello però che ho voluto fare certamente è dipanare questa matassa templare senza mai prescindere dal metodo storico, cioè dal metodo della scienza storica, ovviamente una scienza non esatta, ma che si basa su una disciplina delle fonti e proprio queste fonti io non solo le ho usate in sede di compilazione, ma laddove l'ho ritenuto opportuno le ho integrate anche direttamente nel testo, perché poi le fonti sulla vicenda templare e, in senso più lato, sulla vicenda crociata, se così vogliamo dire, ci sono. Quindi si tratta di andarle a prendere, appunto si tratta di fare la fatica di confrontarle criticamente fra di loro e come sempre accade, come dire, cercare di stabilire che cosa è roccia solida, quindi che cosa c'è di inoppugnabile o di difficilmente attaccabile, diciamo pure così, che cosa invece ha un carattere stanti le fonti a supporto sostanzialmente ipotetico e invece su che cosa non si hanno elementi per parlare, allora sostanzialmente bisogna giocoforto a soprassedere, anche se magari quei temi come appunto quelli dell'immaginario che dicevo prima risultino particolarmente affascinanti. Che cosa c'è di certo in fatto di fonti quando si parla dei templari? Innanzitutto, per quanto ovvio, c'è la normativa templare, cioè la normativa templare, quindi la regola cosiddetta primitiva, formulata già nel 1129 a Troia, regola che poi verrà di lì a pochi anni tradotta in francese e che poi sarà oggetto di ampliamento ancora sostanzialmente nel pieno XIII secolo. Questa è una fonte templare a tutti gli effetti. Abbiamo poi un parco tutto sommato nitrito di storiografi dell'epoca che parlano in maniera più o meno diffusa sui templari e tipicamente da una prospettiva che può essere più o meno nitida sui templari. E poi ovviamente abbiamo integrate nel testo anche delle ricerche ovviamente più recenti, se non proprio del tutto contemporanee, che rappresentano, se così si può dire, quello che è un po' lo stato dell'arte della ricerca sull'ordine templare. Non abbiamo, questo lo dico per la massima chiarezza, non abbiamo nel testo elementi di dirompente novità sul piano dei materiali, quindi io non ho avuto in questo caso, non ho portato avanti un lavoro di ricerca su del materiale inedito, ma in un certo modo ho voluto restituire quello che è il quadro relativamente aggiornato anche del dibattito intorno ad alcuni punti qualificanti la vicenda templare. Io sai che ho un debole sia per i templari che per i loro contemporanei cistercensi, che sono il braccio e la mente, si potrebbe dire. Le domande sono infinite, una alla quale io non riesco a dare una risposta esaustiva e come è stato possibile che un ordine divenuto così potente, così diffuso, così ricco e così appoggiato potesse finire nel giro di due secoli. E una sorte non del tutto uguale, ma simile per certi versi, succede anche all'ordine cistercense, che a partire dal Quattrocento con l'istituzione delle commende inizia a declinare fino poi a spegnersi lentamente. Ecco, questa è una delle due domande che mi sorgono da tempo e alle quali io do delle risposte da inesperto e da autodidatta, ma che mi piacerebbe capire se in qualche modo emergono anche all'interno del tuo saggio. Allora, all'interno del saggio non viene portato avanti un parallelo tra Templari e cistercensi, però ovviamente viene menzionato, e per certi versi non dico che mi dilungo, ma credo di aver concesso uno spazio adeguato alla questione della vicinanza fra i primi Templari e Bernardo di Chiaravalle, chiaramente. Bernardo, come sai meglio di me, compila il De Laude Nove Milizie, che è considerato a torto o a ragione, come dire, suggerirei di evitare di prendere posizioni transciano su questo punto, è considerato il manifesto, se vogliamo, dei Templari, in realtà chiaramente è anch'essa una fonte che va contestualizzata, criticata, fatta a pezzi in maniera metaforica, però al di là di questo rapporto, chiaramente qualificante le origini dei Templari, poi le vicende dei due ordini non vengono, ripeto, tenute in parallelo. Tu hai detto, come direi, hai espresso una domanda assolutamente comprensibile, cioè come è possibile che un ordine così potente, in meno di due secoli sostanzialmente vada a essere soppresso. Se vogliamo, lo sforzo che ho fatto con questo saggio è stato proprio quello non di relativizzare quasi due secoli, quelli, voglio dire, questo è un lasso di tempo che non si presta a particolari interpretazioni, salvo non voler sposare quelle idee che dicevamo in partenza molto suggestive, ma non documentate, cioè l'idea per esempio della sopravvivenza, dell'ordine attraverso una discendenza segreta di maestre, eccetera, eccetera. Mettiamo da parte quello. Rimaniamo ai fatti, 1120-1312. Va messo a fuoco, il mio sforzo è stato largamente questo, come lungo questo lasso di tempo ci sia stata una evoluzione, una trasformazione, se vogliamo, dell'ordine anche molto, molto forte, come in parte, tutto sommato, se ci si pensa, è fisiologico che sia l'ordine sostanzialmente degli albori a poco o nulla a che fare con l'ordine che verrà soppresso appunto nei primi anni del Trecento, che passerà qualche buon anno alle prese con una serie di processi a proprio carico per eresia. I templari cosiddetti delle origini sono un piccolo gruppo di cavalieri devoti che tutto sommato testimoniano con la loro attività, che è un'attività di presidio militare, un'attività di scorta dei pellegrini, un compito di polizia, se così vogliamo dire, testimoniano nel praticare questo compito di polizia come per certi versi, paradossalmente, ma fino a un certo punto, la prima crociata abbia fallito. Vale a dire, la prima crociata ha sì portato alla conquista di Gerusalemme, alla nascita dei cosiddetti stati crociati, ma al contempo non ha strutturato una presenza latina capace di far fronte anche appunto a dei compiti relativamente ordinari e relativamente quotidiani, quale quello appunto dello scortare i pellegrini lungo gli itinerari della fede pienamente recuperati alla disponibilità dei pellegrini cristiani. I primi templari si dedicano a questo, i primi templari sono relativamente pochi, non sappiamo esattamente quanti, abbiamo delle fonti che scrivono, abbozzano delle cifre, no? Su tutti, spicca Guglielmo di Tiro che parla di nove templari, ma va altresi detto che Guglielmo di Tiro scrive a distanza di decenni, scrive da una posizione che è quella diciamo del clero della chiesa secolare che quindi ha un rapporto anche turbolento con l'ordine templare in un momento in cui l'ordine templare è già cresciuto e quindi in un certo senso parlare di pochi, di appena nove templari sfoggianti, un atteggiamento particolarmente umile rientra un po' in quella narrazione che dicevo prima ma che lo storico deve sapere intercettare ed esplicitare quando oggi parla di storia templare. Però al netto di queste considerazioni i primi templari sono pochi, come dicevo svolgono un compito di scorta, non sono particolarmente ricchi e non lasciano una traccia nitida nella documentazione dell'epoca. Hanno un peso che da un punto di vista militare non solo militare è molto modesto e perché la situazione cambia è necessario aspettare qualche decennio. Cioè è necessario aspettare che da una prima esperienza ripeto marginale a Gerusalemme si passi ad incassare un avallo intellettuale intellettuale e politico in Occidente e si passi poi a strutturare una presenza anche economicamente sostentata dalle offerte che via via il Tempio riceverà da Occidente ed ecco allora che la macchina si metterà in moto. Ma abbiamo già bruciato in questo avviamento una parte importante di quei quasi due secoli che dicevamo all'inizio cioè quella dei Templari da un punto di vista materiale poi da un punto di vista intellettuale possiamo parlarne ma sul piano materiale quella dei Templari non è una folgorazione tanto per capirci non è un'esplosione improvvisa ed il resto lo stesso discorso si può fare adottando altre angolazioni per la fine dell'esperienza Templare cioè come dicevi i Templari della fine non sono necessariamente i Templari degli inizi non fanno necessariamente la stessa cosa certo il loro mandato non è più quello diciamo di scortare in pochi cavalieri i pellegrini o perlomeno non lo è più di fatto nel senso che i Templari tra due e trecento sono una istituzione a questo punto molto ben ramificata in occidente ancora capace di fare la differenza nel pur fallimentare diciamo così presidio militare dell'Oriente latino è un ordine chiaramente che è andato ampliandosi e avendo dovuto sviluppare una necessaria pragmaticità per crescere e consolidarsi è anche arrivato a mettere al servizio di terzi questa stessa pragmaticità da qui tutte quelle attività anche finanziarie che vengono a seconda dei punti di vista addebitati o accreditate ai Templari si fa fatica ritengo a ritenerli i banchieri d'Europa non lo sono non lo saranno mai non prestano soldi in maniera sostanzialmente diversa rispetto a quanto non facciano altre istituzioni altre ordini ospedalieri in testa però certamente di strada rispetto agli albori e ne hanno fatta in termini di mezzi in termini di uomini che sono poi tra virgolette la stessa cosa nel senso che sono gli uomini la prima risorsa il primo mezzo a fare la differenza in un ordine come quello Templare io avrei ancora tante domande ma poi ammorbiamo i nostri utenti che invece dovrebbero correre subito in libreria e comprare questo nuovo saggio se hanno ancora dei dubbi e poi magari approfondirlo ampliarlo laddove fosse necessario e indispensabile quindi secondo me è giunto il momento di ricordare il titolo in modo che possano acquistarlo il titolo è semplicissimo I Templari storia di monaci in armi 1120-1312 appena pubblicato da Carocci sono 204 pagine per 18 euro e l'autore è Jacopo Mordenti che abbiamo avuto il grande piacere di averlo con noi io ricordo ai nostri utenti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete tutte le nostre videopresentazioni che sono partite con l'inizio della pandemia e sono diventate un mare in piena quindi avete di che divertirvi io ringrazio tantissimo Jacopo per questa presentazione e vi do appuntamento alla prossima grazie Jacopo grazie mille a te Maurizio un saluto a tutti gli amici di Italia Medievale grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te